Deferito è stato di libertà l'autorità giudiziaria un 28enne palermitano con l'accusa di maltrattamenti di animali e partecipazione a competizione non autorizzata tra animali. Negli ultimi giorni sui social era diventato virale un video nel quale viene ripresa una competizione clandestina fra cavalli in via Mangitore nel quartiere Ballarò. Nel corso della gara uno dei due animali guidato da un fantino e trainante un calesse era andato ad impattare contro un'autovettura. I carabinieri della compagnia Piazza Verdi con il contributo dei carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo Nucleo CITES hanno dato inizio ad una meticolosa attività info-investigativa di iniziativa per risalire agli autori del reato e agli animali partecipanti alla competizione anche mediante l'analisi delle immagini. Proprio fra i vicoli del quartiere Ballarò è stata trovata una stalla abusiva e sconosciuta all'autorità sanitaria a Tigo ad un magazzino in cui era presente uno dei due poni. I carabinieri sono risaliti quindi al giovane proprietario trovando e sequestrando anche un calesse utilizzato per la corsa clandestina. Il poni, visitato da personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo, non presentava ferite evidenti, era sprovvisto di documentazione sanitaria e microchip ed è risultato compatibile con il cavallo coinvolto nell'incidente avvenuto durante la corsa. L'animale è stato dunque sottoposto a sequestro sanitario e trasportato, con idoneo mezzo prontamente messo a disposizione dal corpo forestale della regione siciliana, all'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia, dove è stato affidato a personale specializzato che procederà all'identificazione dell'animale e l'affettuazione delle necessarie analisi per valutarne le effettive condizioni di salute.